gentili telespettatori buona giornata la via mediterranea per l'addio al gas russo l'eni scopre un maxi giacimento a cipro la nave esploratrice che ha confermato la scoperta del giacimento è quella che vedete nella foto di copertina giacimento di gas di eni e total al largo di cipro quindi è stata annunciata questa importante scoperta a circa 160 chilometri al largo di cipro si tratta del pozzo cronos 1 nel blocco 6 operato da eni cipros con una quota del 50 per cento l'altra metà è della francese total energy le stime preliminari riportate in una nota il gruppo guidato da claudio de sgalzi indicano circa 2,5 trilioni di piedi cubi pari a 70 miliardi di metri cubi il gas imposto con un significativo potenziale aggiuntivo verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo sono già in corso studi di energia per uno sviluppo accelerato della scoperta il pozzo cronos 1 e il quarto pozzo esplorativo perforato da eni ciprus e il secondo nel blocco 6 dopo la scoperta a gas di calipso 1 nel 2018 secondo l'eni la scoperta di cronos 1 crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi di gas nella regione e rappresenta una delle azioni portate avanti da eni a supporto della fornitura di ulteriore gas all'europa questa scoperta prosegue la nota conferma l'efficacia della strategia esplorativa di eni volta a creare valore attraverso la profonda conoscenza dei bacini geologici e l'applicazione di tecnologie geofisiche proprietarie eni che è entrato di recente nel più grande progetto del mondo per il gas naturale liquefatto in qatar è presente anche a cipro dal 2013 la società opera i blocchi 2 3 6 8 e 9 e detiene partecipazioni nei blocchi 7 e 11 operati da total energy si tratta di scopertere che potrebbero aiutare a diminuire i problemi che ha l'europa energetici alle prese con un prezzo del gas più che duplicato a causa delle tensioni con la russia da cui dipende fortemente e qui torna in mente quella che oggi suona come una profezia di descalzi che nel 2017 dopo alcuni eventi internazionali disse c'è tanto gas tra egitto israele e cipro meglio non restare nelle mani di pochi fornitori di energia prima o poi il conto si paga e così l'isola al centro del mediterraneo e sulla scena del gas dove agiscono altri grandi operatori mondiali come chevron e shell nicosia e chevron si sono impegnati ad accelerare lo sviluppo del giacimento di gas offshore ad di afrodite per rifornire i mercati europei e l'egitto il gas naturale del giacimento situato a sud est di cipro è stato scoperto nel 2011 si stima che contenga circa 4,5 trilioni di piedi cubi di gas ma non è sfruttato secondo router parte del ritardo nello sviluppo di afrodite risiede nel fatto che una piccola parte del campo si estende nella zona marittima di israele la chevron è partner nel campo di afrodite con shell e new med energy israeliana cipro sconta la situazione geopolitica la parte nord è occupata dalla turchia dal 1974 alcune acque sono oggetto di contesa con ancara e ci tensioni sul blocco 3 ma non quelle in cui si trova il blocco 6 in questa area le infrastrutture devono essere ancora realizzate e secondo addetti al settore ancora troppo pesto per sapere se sarà liquefatto trasportato in pipeline in in progetto nell'area c'è est made un gasdotto da circa 2000 chilometri che porterebbe 10 miliardi raddoppiabili a 20 miliardi di metri cubi l'anno di gas del mediterraneo orientale fino in puglia passando da creta e grecia continentale il 6 luglio il consorso ig poseidon una joint venture tra italia edison tra l'italiana edison e la greca depa ha lanciato le gare d'appalto per la costruzione del tratto on shore pari al 25 per cento dell'infrastruttura mentre nel 2020 ha chiuso quelle per il tratto off shore pari al 75 per cento secondo il ceo di edison nicola monti eastmed potrebbe essere pronto in quattro anni e trasportare anche idrogeno rispondendo alle esigenze della decarbonizzazione quindi se questo gasdotto potrebbe passare da 10 miliardi di metri cubi a 20 miliardi di metri cubi si sarebbe così riusciti a rendersi autonomi dal gas russo perché questo di 20 miliardi più altro gas che si prende da altri paesi è l'alternativa per chiudere definitivamente e per sempre forse con il gas in arrivo dalla russia in molti l'hanno sempre detto altro che no alle trivelle no all'estrazione di gas il gas serve e bisogna estrarlo perché se no lo compri da altri paesi che te lo fanno pagare quanto vogliono loro altro che tetto tetto al gas tetto di qui e tetto di là il nei paraggi dell'italia soprattutto sotto i mari è pieno pieno di gas solo che l'italia aveva smesso di cercarlo e di estrarlo per andare a comprarlo dagli altri e questo poi come diceva descalzi il conto prima o poi si paga infatti il conto è arrivato adesso in fretta e furia cercare di colmare i tempi persi nel passato è un bel problema se noi avessimo continuato a cercare il gas e estrarlo e avessimo fatto le centrali nucleari a quest'ora probabilmente non avremmo nessun problema né di elettricità né di gas e le nostre aziende sarebbero molto più competitive degli altri paesi avendo delle bollette di gas e di luce normali normali tra virgolette per lo meno come prima o anche più basse con il nucleare oggi è arrivato il conto e siamo tutti nel panico come facciamo adesso come fanno le aziende come fanno le case a riscaldarsi questo è un bel problema che non si può risolvere dall'oggi al domani perché si è perso decenni di tempo grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e arrivederci a presto